Grande chance col Benevento e non hai dell'uso delle aspettative, ti sei fatto trovare pronto e ti sei preso la maglia da titolare? Sì, il mister mi ha dato questa occasione quando ho stato col Carpi e ho voluto ripagare la sua fiducia. Ora mi sento di potermi giocare il posto tutta la settimana durante gli allenamenti e poi il mister trarà le sue conclusioni prima della partita. Ho molta più fiducia rispetto a prima, appunto grazie alle partite e adesso vedremo pian piano cosa deciderà il mister sulla titolarità. La tua presenza anche in Team Cup, sicuramente una bella vittoria perché adesso si andrà a San Siro contro l'Inter. Sì, io appunto sono di Novara e sono sempre stato fin da piccolo milanista, quindi per me vuol dire anche qualcosa di più. San Siro per me è sempre stato uno stadio, forse lo stadio più bello del mondo per me, è sempre stato un sogno poterci giocare e avendo conquistato questo turno vedremo cosa potrà succedere. Noi andiamo là per fare la nostra partita e ci giocheremo tutte le nostre chance assolutamente. Bellissima la prestazione di Palermo, dei brividi ci sono stati soprattutto nel finale, però alla fine un punto importante forse per la strega. Sì, loro stavano molto bene fisicamente e sono attualmente ancora primi in classifica, quindi noi siamo andati da sfavoriti, ma secondo me rivedendo anche la partita abbiamo imposto il nostro gioco fino all'ottantesimo. Poi c'è stata quell'occasione, ci siamo un po' impauriti e ci siamo chiusi gli ultimi dieci minuti, ma secondo me non abbiamo mai sofferto veramente perché si è stati veramente squadra e si è stati molto compatti. Anche il fatto di non aver preso gol ci ha aiutato molto. Domenica arriva il Verona, uno scontro diretto. Come andrà affrontata la partita e come ci arriva il Benevento che ha delle defezioni? Sì, diciamo che non siamo molto fortunati in questo periodo con tutti gli infortuni, però dal colpo agli infortuni sarebbero solamente delle scusanti, quindi noi diamo tutto in settimana e sicuramente andremo aggueriti alla partita di domenica perché sappiamo che è una chance molto importante contro l'Arias Verona e daremo tutto noi stessi con i giocatori che il mister deciderà di mettere in campo e sicuramente avremo le nostre chance da giocarci nonostante le defezioni. Un'ultimissima, la parata più bella finora e il gol che non ti perdoni? La parata più bella secondo me è stata quella con il Carpi nel secondo tempo su Mbaie e il gol che non mi perdono è quello con lo Spezia, il secondo gol che purtroppo non ho visto partire la palla. Se fossi stato magari in un'altra posizione o diciamo in circostanze diverse potevo far molto di più secondo me ed è stato un peccato perché era il gol della doppia.